ecco a voi cari amici di Mirko Webcomics che il vostro Mirko Webcomics adesso vi saluterà ciao ciao a tutti cosa? adesso canteremo una piccola canzoncina giusto Mirko? piccola piccola per voi che mi raccomando seguite questo bel canale che tra barzellette, video, un po' di canzoncine così vi faremo passare un po' di tempo giusto Mirko? parla tu però non di solo si vabbè pronti? partenza via alacca la babba alacca la babba alacca la babba alabba 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 Mirko alabba 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 con una mano alabba babba alabba 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 un gran saluto a tutti voi del Mico Web Comics un bacio grande saluta Mirko e di ciao ragazzi ragazze e mi raccomando se volete sostenere il mio canale mettete like ai video commentate e mi raccomando o condividete sui social e se non l'aveste già fatto iscrivetevi al mio canale ciao 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 sorridi ciao ciao ciao